Questi? Questi? Oh, come so? Ma che cosa dico? Eh? A me mi piacciono. Ti piacciono i capelli? Ma qua ha i capelli. Dei questi. Ma che cazzo mi piace? Quelli ha le spine, qua a me. Ma questa è una canzone? Ma papà, mi piace. Ti piace? Tanto. Ti piacciono? Ma questo è il festival di Sanremo? Eh. Ma lo so di cantare. Ma questo sta urlato che mi ha fatto già tu con io cucina. Peccata questo. Ma sono panche. Ma sta sito e panche. Peccano tre stronze. No. Come si chiama sto cantante? Ha detto Diodato. Ma non è una bestemmia? Diodato no. Eh? Non nominare i nomi di Dio? In barna. Il festival si può nominare? Sì. Diodato quindi non è una bestemmia? Diodato è un cognome che è anche una bastia. No, Diodato è una bestemmia. No, 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 vai via. È come Dio. No, Dio ha dato. Va via, è cosìести a romperchi i coglioni. Va via. Che ne pensi di questo festival, di questa piacere? Che? Ti sta piacere questo festival? A me piacere. Perché? Perché mi piace. Perché? Perché non sono cantante. Che cantano? Truscone? Perché? Invece di cantare parlano, non so neanche cosa dicono. Ma va a Panku, che festival è?